Quattro appuntamenti con la comicità d'autore tra luglio e settembre a Caltanissetta nella rassegna Comici da Legare organizzata dal Comune. Si comincia l'11 luglio alle 21 e 30 in Corso Umberto con il comico livornese Paolo Migone che metterà in scena il suo lavoro intitolato Completamente Spettinato. Tradizionalmente sul palco con camice bianco e occhio nero Paolo Migone è noto agli amanti di Zelig e non solo per le sue sferzanti riflessioni impregnate di comicità ma anche di un retrogusto amaro sulla vita di coppio su fatti di cronaca. Secondo appuntamento il 24 luglio alle 21 e 30 nella piazza del quartiere Provvidenza con lo spettacolo Nel ricco ne Bono di Simone Enrico Bono volto di Sicilia Cabaret che si è formato all'Accademia del Comico di Milano. I suoi testi sono improntati alle esperienze familiari alla vita di tutti i giorni sempre con quel taglio caricaturale tipico del cabaret. Il 30 luglio alle 21 e 30 ancora un appuntamento in Corso Umberto con un artista che vanta esperienze in rai a fianco di Corrado Guzzanti e sul palco di Zelig oltre che come attore in distretto di polizia. Si tratta di Marco Marzocca che andrà in scena con Ciao Signò. Negli ultimi anni il cabarettista si è imposto all'attenzione del pubblico nei panni del filippino Ariel con il suo tormentone se svampato Signò quando annuncia i danni fatti nel corso del suo lavoro di domestico. Il programma si chiuderà l'11 settembre alle 21 e 30 sempre in Corso Umberto con striscia la battuta di Cristiano Militello. Quest'ultimo metterà in scena i tic dell'uomo moderno con battute caustiche su amanti, autovelox, centri commerciali, internet e discoteche. Militello non potrà naturalmente non riproporre una rassegna sugli striscioni più curiosi ed esilaranti da lui immortalati come inviato di striscia la notizia negli stadi d'Italia grazie alla rubrica striscia lo striscione.